Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di Tempesta in Fortnite stagione 4 per la settimana 7. Sfida che vi richiede di usare il potere di Tempesta per stordire un giocatore e poi recarre danno. La sfida in questione prende il nome di infliggi danno dopo aver respinto un avversario con l'esplosione turbine di Tempesta. Quindi è una sfida molto molto simile a quella di Black Panther quindi voi usate il potere di Tempesta e poi usate subito un altro potere per fare danno e quindi completate la sfida. Per farla io consiglio ovviamente Marvel Knockout perché è molto più semplice e veloce. Ora, nella mia partita non c'è l'abilità di Tempesta quindi esco dalla partita, rientro fino a quando non mi compare l'abilità di Tempesta. E eccomi ragazzi, ci ho messo una vita tipo 50 volte ma alla fine è uscito. Il potere è questo, il tornado, molto semplice. Voi lo utilizzate in prossimità di un giocatore, infatti ho fatto anche la sfida e poi utilizzate qualsiasi potere per fare danno. Quindi non è che dovete uccidere i giocatori, vi basterà utilizzare il potere di Tempesta e poi fare danno ai giocatori.